Non fare il lancio di oggetti in campo e sugli spatti, ma non commettere atti di violenza né all'interno né all'esterno dello stadio. Partita terminata in questo momento, risultato 2 a 1 per l'Union Clodiense, l'Union Clodiense è in C, matematicamente saliamo di Gironi. Tutti contenti, disfrutti in campo, l'Union è l'anno, passate pure ciao, è stato un piacere conoscerli, ciao ciao ciao, è stata una bella partita. Il risultato, eccolo là, Andreucci che viene sbalzato dalla squadra, non so cosa riusciate a vedere, c'è il sole negli occhi e non si vede moltissimo, comunque è entusiasmante insomma. La squadra sta esultando in campo. Gli Ultras stanno aspettando, si sono avvicinati a dove si trova la squadra per avere il saluto, eccoli là che si avvicinano. Hanno fatto un tifo comunque costante dall'inizio alla fine della partita. Spero riusciate a vedere. Serie C, esatto Davide, serie C. Sono tanti, tanti, tanti anni che si aspettava questo passaggio, per un solpio anche lo scorso anno. Entrano in campo, entrano in campo, gli hanno concesso di entrare in campo e se li vanno ad abbracciare tutti. Si avvicinano anche gli ultimi che erano rimasti, bandiera e tutto. Festeggiamenti prima della fine del campionato, perché matematicamente il risultato ci porta in C. Gli 8 punti sono diventati 9, 10, 11 punti di distacco. Non ci sarebbe verso, per le dolomiti bellunesi, che è la seconda in classifica di recuperare. Abbiamo in campo anche la bandiera degli ultras, intanto qua si sta svuotando il palco. Aspettiamo che vada via la polla e cerchiamo dove... Faccia attenzione che ci sono scalini infidi. Faccia attenzione. Ce la fa? Vuole un aiuto? No, 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 vado giù con il panino, però vado giù. Buona giornata. Buongiorno. Gli scalini che ci sono qua sono una cosa obbrucchiosa. Entrano tutti in campo, tutti, tutti quanti che sono venuti da Chioggia a sostenere la squadra. Meritata vittoria. Sentite il coro. Sfumante che gli abbiamo detto, hanno detto loro che l'avrebbero tenuto in fresco. L'hanno tenuto in fresco e adesso finalmente lo hanno stappato. Un risultato eccezionale. Sarà una vita più dura il prossimo anno perché le mete non saranno... I campi su cui andarsi a scontrare non saranno così vicini. I tifosi dovranno fare più strada e per noi ci saranno delle regole ben diverse per poter seguire le squadre. Ma una grande soddisfazione per una squadra che ha lavorato tanto in questi ultimi anni. una grande soddisfazione per il presidente Bielo, per mister Andreucci e per tutti coloro che non si sono risparmiati per questo risultato. Meritiamo da anni questo traguardo, certo. 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 Complimenti Grazie mille Bravissimi Grazie mille Grazie mille